allora io vi racconto una cosa da consumatore da consumatore che riguarda questa marca importantissima di televisioni che si chiama lg come livorno genova lg li trovate da tutte le parti dovete sapere che questa cosa mi ha fatto particolarmente arrabbiare adesso rido mi ha fatto per particolarmente arrabbiare per il semplice motivo è che è una di quelle robe che tu capisci come ti prendono per i fondelli non dico che ti truffino perché ovviamente formalmente sarà tutto perfetto ma ti prendano per i fondelli allora in questa fase della nostra vita si devono cambiare televisori io faccio un mestiere per il quale la televisione serve molto servono i monitor servono le televisioni e ho sono andato da media world a comprarmi un televisore lg e voi dite ma perché ci rompi le palle bube la racconto perché è una storia pazzesca sulla quale forse qualcuno di voi già ne sa qualche cosa ho comprato questo televisore neanche visto a dire che mi sono chiesto per quale motivo io che voglio i negozi va in un negozio a comprare un televisore e ti accorgi che è più comodo comprare i televisori su amazon lo dico con grandissima semplicità perché ci ho messo una vita sono dato primo giorno visto il televisore poi sono andato il secondo giorno quella bolletta poi sono andati giù poi c'era la fila la cassa per questo 20 minuti poi mi hanno chiesto tutti quanti i documenti mi hanno chiesto la carta di credito gli ho chiesto la fattura perché io volevo la fattura insomma che vi posso dire un clic su amazon invece ho perso due ore due ore a media world ma non è questo quello di cui voglio parlare voglio parlare di lg alla fine quando ho finito di fare tutta la procedura ho speso 1700 euro cioè un botto ho preso un bellissimo televisore da 1700 euro ti dicono adesso puoi avere il cash back di lg fino a 500 euro io dico vabbè proviamo a vedere di che cosa si tratta e lì inizia l'odissea l'odissea che finisce male e mi fa veramente inviperire per il tempo che ho perso ma anche per come queste cose secondo me sono fatte per fottervi noi ci lamentiamo dei comuni quello di roma che per avere la carta di entità ci metti settimane il numerino i documenti che loro hanno e tutto quanto poi invece quando c'è una multinazionale una grande compagnia privata come lg noi diventiamo dei cagnolini no dobbiamo essere più incazzati ancora anzi altrettanto furibondi per la burocrazia che loro mettono ti registri nella loro pagina solita password alto basso segno x y york ti registri nella pagina e lì dicono nome cognome foto dello scontrino e c'è la fattura metto la foto la fattura numero e foto del numero di serie del televisore io gli ho mandato tutto ci ho messo 15 minuti per dargli tutti i dati e poi per avere indietro 200 euro l'iban gli ho dato il mio numero di telefono gli ho dato la mia email gli ho detto anche quanti figli ciò gli ho detto tutto lg dopo una settimana mi arriva una mail che dice mi spiace ma non avete ti informiamo che purtroppo la tua partecipazione in oggetto non è stata convalidata in quanto non hai rispettato tutte le regole di partecipazione riportate all'interno del regolamento ma lì mortacci vostra vado su lg ritrovo la password ma sono io che sono veramente un deficiente e vado a vedere che non c'è la data dello scontrino non c'è la data dello scontrino sicuramente ho sbagliato io è sicuramente sbagliato io c'è la data della bolletta di media world c'hanno il numero di serie del telefono del televisore e c'hanno la fattura che mi devono mandare a me come fattura elettronica ma manca la data dello scontrino che non è tale perché c'ho una fattura e loro mi dicono che non c'è la data dello scontrino e quindi non mi danno i 200 euro io me ne fotto perché sono una persona fortunata dei 200 euro ma la cosa di cui non me ne fotto ed è il motivo per il quale io qui faccio questa zuppa diciamo commerciale consumeristica e che ti stanno prendendo per il culo io sono sicuro che c'è un manager al g e non solo l g che gode sul numero di persone che sbagliano l'applicazione per poter prendersi 200 euro loro fanno un grande manifesto ti diamo il cashback fino a 500 euro poi si scopre che sono 200 perché evidentemente il mio televisore da 1700 euro non valeva i 500 vale 200 ti faccio perdere 20 minuti per mettere tutti i dati a posto e perdiamo i 20 minuti e già lì secondo me c'è una mortalità alcune di alcuni di alcuni acquirenti poi dopo che ho fatto tutto gli ho mandato i jpeg gli ho mandato le foto gli ho mandato tutto quanto manca dato dello scontrino ma mi avete fatto la fattura riportarci o ogniuno sarà infelice a modo suo quindi quel manager che cosa dice sul 100 di promozione cosa sono riuscito a fare te ne ho fatti secchi per motivi e errori formali il 20 30 per cento qua solennemente davanti a voi che mi guardate vi voglio dire non voglio i 200 euro di sconto chi se ne frega questa è semplicemente una di quelle robe consumeristiche in cui i codacons in cui quelli che si occupano solo di fare i grandi programmi si dovrebbero occupare perché evidente che queste cose se le fai perfette perfette c'è tutto pulito eccetera riesce a fare è evidente che io gli avrò mandato la cosa sbagliata nel campo sbagliato ma è altrettanto evidente il fatto che queste burocrazie sono fatte per fottervi io non voglio 200 euro non li voglio ho comprato quel televisore ma penso che questa sia una battaglia di civiltà commerciale il mercato è meglio dello stato ma se nel mercato ci sono come possiamo dire gli anticorpi per cui sappiate non è una posso dire una truffa no non posso dire una truffa perché non è quello che fa il gioco delle tre carte ma insomma vi mettono tutti i bastoni per il tra le gambe perché voi cadiate nel richiesta del bonus chi se ne frega è qua c'è il super green pass altro che bonus di lg ciao ciao